Lorenzo de' Medici nacque a Firenze nel 1449. Compì i suoi primi studi sotto la guida dei più grandi aumanisti del tempo. Nel 1469, appena ventenne, assunse il governo di Firenze e consolidò la sua signoria con una serie di riforme. Abile uomo politico, assicurò anche un periodo di equilibrio fra le varie potenze italiane, tanto da veritarsi l'appellativo di ago della bilancia d'Italia. Protettore di artisti e letterati, fu egli stesso scrittore e poeta. Lorenzo de' Medici, detto il magnifico per la sua attività politica, letteraria e per il suo mecertismo, morì nel 1492, dopo una vita breve ma intensissima. Grazie a tutti!